Nel corso del tempo il calcio mercato ha spesso cambiato da deforma, addirittura in un passato non molto lontano c'era la sessione di novembre. Qualcun anno fa è stata eliminata la formula della comproprietà, dal primo luglio cambia quella relativa ai prestiti di tutte le società affiliate alla FIFA. Prima di tutto gli accordi presi saranno validi per tutti i calciatori al di sopra dei 21 anni e saranno esentati gli under 21 oppure gli elementi cresciuti nello stesso club. La durata di un accordo relativa ad un prestito d'ora in poi non potrà essere inferiore al tempo che trascorre tra due sessioni di mercato. Inoltre non è assolutamente possibile prestare a una terza società un giocatore che al momento si trova in un altro club e che non sia quello detentore dei diritti sportivi. Ogni squadra non potrà prestare ad un'altra società più di tre giocatori e non potrà averne in prestito la stessa un ugual numero di atleti. Ad esempio Avellino e Frosinone non potrebbero far invertire maglia più di tre elementi presenti nel loro organico. Decise anche le tempistiche nelle quali le squadre si dovranno adeguare a queste nuove normative. Nel torneo 2022-2023 i club non potranno prestare più di otto calciatori in totale e non potranno prenderne in prestito più dello stesso numero. La quota scenderà a 7 nella stagione 2023-2024 per arrivare a 6 nelle stagioni successive. Grazie a tutti.